benvenuti al terzo episodio di questa serie di video stiamo costruendo un sentiero come avrete già capito e adesso siamo arrivati in un punto dove si arriva ad una parte molto veloce un pezzo anche abbastanza ripido dove si prende una bella velocità però qua c'è il primo nostro grosso problema abbiamo questo fiume da guadare praticamente da attraversare e a seconda di quanto vediamo nel senso l'acqua ha fatto parecchi danni secondo noi quando piove forte verrà un sacco di acqua una bella alluvione almeno una volta l'anno quindi la nostra idea era di costruire un ponte però poi abbiamo guardato più avanti e c'è questa bella salita noi intanto abbiamo pulito a sinistra un sentierino si fa un po' pedalando quindi non è al massimo però qua abbiamo questa bella salita abbiamo tanta velocità dal sentiero e l'idea è di fare un salto ovviamente però come faccio come dicevo il principale problema è il fiume questo questo rigagno d'acqua diventa molto grosso almeno una volta l'anno a dedicare dai danni che ha fatto quindi la cosa migliore è sicuramente creare un ponte qua abbiamo già messo un legno che già ci sembrava lungo ma in realtà è corto per quello che dobbiamo fare quindi l'idea è fare un ponte che si colleghi qua sulla parte bassa della riva della della salita e poi inclinare l'ultima parte con degli altri tronchi e fare uno step up ora non è semplicissimo perché qua è un po tutto scosceso non sappiamo quante pietre ci siano sotto un'altra cosa difficile è trovare i tronchi nel senso qua ne abbiamo tanti però sono anche grosse e pesanti ma speriamo in bene e poi il secondo problema è un po' l'atterraggio andiamo a vedere visto che erano marce abbiamo già tirato giù questi li abbiamo soltanto spinti con il nostro peso e sono venuti giù quindi l'atterraggio verrà in questa zona qua ci sarà da sbancare parecchia terra perché essendo uno step up non voglio comunque un attraggio solo in piano ma un po' inclinato quindi bisognerà mettere un po' di legni qua per contenimento e far venire giù tutta questa terra qua e far venire qua un piano sarà un bel lavoro però penso che sia quasi d'obbligo sfruttare quella velocità e quella discesa che abbiamo in quel sentiero e fare un salto un po' grosso che qua ce ne mancano un po' non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E qua perché non fare un salto? Abbiamo tutta questa riva, ovvio bisognerà fare un ponte e una rampa, però di spazio là ce n'è, sarà figo. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo probabile salto e li leggerò e voluteremo un po' insieme se farlo o no, perché comunque è difficile costruirlo, ci va tanto lavoro e in realtà un sentiero qua dove sto camminando adesso c'è già, però fatemelo sapere. Grazie a tutti.